donna madonna 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 di quella buona aiuto ok paurano uno di vita non mi fa fare l'unicorno morto ragazzi massacraterei tutti sotto sotto allora sono qua bisogna carriarla durissima mi dispiace ragazzi che mi ha ammazzato così c'è la pozzata 50 qui dentro comunque non so se qua dentro viene fatta la pia niente mi è un dispiacere quando capi queste cose te lo sta preparando i suoi piani malefici con la soundboard io lo so quando sta zitto è perché sta confabulando qualcosa come? dove? perché? non ho capito allora lutiamo al volo facciamoci 200 di 300 di materiale andiamo a paradise subito allora non possiamo scendere in cattiviti su qualcuno quindi allora uno lo vedono lo vedi questo qua da solo? tyron lo vedi tyron è uno skinner minchioso vai ti capito qualcosa della vita lui? no prenditi qualcosa ti capito neanche se è morto ancora questo non ti devi muovere ucciso è già morto siamo sedutti eh boh è stato esplosso manca un thompson che pena ma no ma se ne... sono benissimo nerfarlo stanno thompson già che c'erano eh ma non capisco secondo me più che nerfarlo basterebbe ragazzi che lo mettessero nel vault ah direttamente levato raga secondo me risolverebbero tanti di questi problemi vi do un sacco di costruzioni ovest vai eccoli li vedo li vedo non parlavo dei 10 minuti perchè stavo caricando lo starnucci non parlavo dei 10 minuti dov'è l'altro? no 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 arrivano gli altri ti vedo la gara prendi le cose prendi le cose ce l'hai lancia granate carico andiamo? si 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 devi farti l'idea ok dai ye bravissimo bravissimo oh pulito no ma dai ma che fail che ho fatto ma hai visto? ma gg g**t lanciate troppo forte oh al tonso lasciate il P90 se lo vuoi Sì Stiamo a far partitone Deluxe e Checco Ci pensiamo noi Non è il piacere da tutti quando è là addosso Eh no Cosa Tutti a camperare Beh infatti sì Mi sto a girare con fare Questi non sono persone nascoste No davvero io mi sto girando con fare sospetto Ma Lì c'abbiamo i rift Da usare quindi possiamo dirigerci Verso i rift Qualcuno sta affaitando Eccolo Sparato io Siamo qui Ciao 25 Braal Faccio vedere Senti io non glielo faccio restare Non Che c'è uno qua volete volete scumare power tutti tutti i loro vettito in qua che ci sta ci sta al coso quasi ti serve io ricarico tutto ci sta che cazzo sta il tommy can sono altri scildini rampino buono allora li vedo li vedo vieni vieni torniamo l'anno distruttava la piattaforma causato per saltare alla vieni che facciamo il mega jump ce l'abbiamo esattamente anno vuole giamberino ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho sta avendo da noi uno ok torniamo indietro ci abbiamo accanto gli ho fatto headshot quello che vola fittato pure io fittato e bianco catroia sotto di me ora c'è ancora la scelta no 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 non è lo scelta che mi serve che tu gli spari e solo tu gli devi sparare non non gli devi dare il tempo di sparare e bro è che tu mi stavi pensando a me ma non a loro mi sono wow è la scuola mia or che altro ok 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 Sì 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 c'è un po' di più questo ci avrà due una telebattuta madonna concentrazione dove so dove e mi sta restando forse collega non ho mai sentito così tanti rumori del gioco eccolo la uno contro uno no ma non ti devi preoccupare lì devi sparare mi occupo io della... cioè io penso a me stesso in quel frangente era perché ovviamente che non potevi tu darmi le cure erano in quattro che ci pushavano siamo in inferiorità numerica ma... ma che che... ma qualcosa non è bene eh ah ok il cecchino quello... ah giusto che mo non posso nemmeno salire in alto a casa let's go baby oh ma chiedi da taglio... ho fatta la fine let's go no quello non c'è capito niente quello quello ha detto vabbè è sopra cheat uacC 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 Grazie a tutti.